buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news da asti e provincia il teatro alfieri ospitato i primi eventi ufficiali legati al paglio del prossimo 5 settembre varia a dire l'investitura dei rettori il giuramento degli stessi e la stima dei drappi ottenuta la garanzia della bontà dei due pali il sindaco rasero ha indetto ufficialmente solennemente l'edizione 2021 della manifestazione prevista per domenica 5 settembre va precisato che la corsa e gli eventi ad essa abbinati potranno avere luogo solamente se l'evolversi della situazione legata alla pandemia sarà andata fortemente ad attenuarsi o meglio ancora come affermato maurizio rasero al termine del suo breve intervento se la situazione di affizione che stiamo vivendo lo permetterà federica farinella trovate altri resti della modella scomparsa 19 anni fa la squadra di esperti li ha intercettati vicino a una tana di cinghiali a una decina di metri dal primo ritrovamento di ottobre nel campionato di eccellenza girone b è dominio assoluto per le formazioni astigiane prestazione maiuscola da parte dell'asticalcio di davide montanarelli che annichilisce 3 a 0 l'albesi in casa e resta punteggio pieno in classifica reti di giuseppe piccone su calcio di rigore plado e masoello risponde presente però anche il canelli sds del patron bruno scavino che grazie a una rete dell'ex professionista testardi batte l'olmo e aggancia i cugini a quota 9 punti e con questa notizia è tutto un saluto un ringraziamento da parte della nuova provincia asti è il suo giornale grazie a tutti grazie a tutti